Una serie in prima serata tv girata interamente ad Arezzo. Ad annunciarlo con un post su Facebook che ha già raccolto centinaia di like è stato Marcello Comanducci, presidente di Arezzo in Tour in tandem con l'assessore Simone Chierici. Finalmente possiamo darvi un'anteprima bomba, scrivono Arezzo sarà la location della prossima serie tv di punta di Mediaset trasmessa in prima serata su Canale 5, protagonista Vanessa Incontrada. La serie sarà ambientata proprio in città e vedrà la troupe girare più e più di due mesi una visibilità insomma impareggiabile che porterà ad Arezzo ricadute incredibili. E' infatti sempre Marcello Comanducci a riportare alcuni esempi di ricadute pratiche del cine-turismo come ad esempio Elisa di Rivombrosa che avrebbe generato un incremento del 500% nel torinese. La serie del commissario Montalbano a sua volta avrebbe portato a Ragusa un più 48% Don Matteo un più 10% nella vicina Gubbio, il Colossal alla Passione di Cristo poi a Matera più 144% di visite ed infine Gomorra ha generato un più 25% di flusso turistico a Napoli. L'auspicio adesso insomma è quello che tutto ciò possa ripetersi anche ad Arezzo.